Eva Enger Eva Enger eliminata all'Isola dei Famosi, nessun saluto con Francesco Monte Eva Enger è il primo concorrente eliminato all'Isola dei Famosi 13, al televoto perde contro Marco Ferri. In precedenza aveva accusato Francesco Monte di aver portato la droga nel reality show di Canale 5. Eva Enger esce dall'Isola dei Famosi 2018, qual è la percentuale del televoto?. La Enger deve abbandonare l'Isola nella seconda puntata di lunedì 29 gennaio, al televoto ottiene il 77% delle preferenze contro il 23% per Ferri. Eva Enger non saluta Francesco Monte dopo l'eliminazione. La Enger e Monte non si sono salutati dopo il verdetto. Le ruggini tra i due per le accuse di lei, sull'aver fumato marijuana in villa, o per aver fatto riferimento a Cecilia Rodriguez si sono fatte sentire. Eva Enger chi è?. Eva Enger nasce a Gikr, Ungheria, il 2 novembre 1972. Appena diciassettenne, viene eletta Misty in Ungheria 1989. . Trasferitasi in Italia conosce Riccardo Schicchi, che sposa nel 1994 e dal quale ha due figli, Mercedes e Riccardini, e inizia a esibirsi nei locali romani dell'Agenzia Diva Futura e in altri locali la App Dance in tutta Italia debuttando nel 1997 nel mondo delle Rose. . . Diretta, oltre che dal marito, anche da Joe D'Amato, gira quattro film a luci rosse. . Abbandona questo mondo nel 1999 e viene lanciata da Riccardo Schicchi in quello della televisione cominciando la carriera di subrette ospite televisiva. . . . . . . . . .